Allora, pronto? Buongiorno, chi è? Pronto, Gennaro. Alzate il volume del vostro tono, delle vostre tonzille. Gennaro. Ehi, te senti, parlo. Miss Schiettin, ma il rattuso te ha più telefonato poi, non grido, no? Non ti ci ho permesso, l'abbiamo mandato quel paese a quel pidocchio. Pidocchio di merda. Ma è un grande rattuso? Sì, un grandissimo rattuso. Pidocchio di merda. Sì, un grande rattuso. 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 Sì. Sì, un grande rattuso. 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 Sì, un grande rattuso.